Ti voglio raccontare la storia del signor Luigi. Il signor Luigi è un appassionato d'arte. Passa davanti a una galleria di quadri e vede un quadro. Allora entra e chiede al gallerista di fargli vedere bene questo quadro, chiede il prezzo. Solo che il gallerista gli dice, senti, questo quadro è di valore, è prezioso, è di un artista importante. Non te lo posso vendere così. Fammi vedere almeno dove pensi di collocarlo, perché vorrei che fosse valorizzato. Allora il signor Luigi dice, certo, vieni pure a casa mia. Si trovano a casa del signor Luigi. Il gallerista quando entra in casa rimane sbalordito, si mette le mani nei capelli, perché è una casa che sembra un museo con tutti i ricordi del signor Luigi da quando era bambino, cianfrusaglie, quadri che riempiono tutte le pareti, oggetti. E il gallerista dice, no, guarda, non posso darti questo quadro. Messo lì si perde. E il signor Luigi insiste, no, ma te lo pago il doppio. Io voglio assolutamente avere questo quadro, mi piace, mi piace. Allora il gallerista gli dice, guarda, l'unico modo per cui tu possa avere questo quadro devi fare spazio, pulizia, ordine, devi buttare via tutto. Per carità ci mancherebbe, tieni quelle tre o quattro cose che hanno veramente un significato per te, però devi fare spazio. E allora finalmente potrai collocare questo bel quadro. E questa è l'unica possibilità. Devi fare ordine e buttare via tutto. E questa è la storia del signor Luigi. Naturalmente avrai capito che il quadro, bello, prezioso, di valore, è il percorso, è la via, è il percorso esoterico. E la casa sei tu. Devi liberarti dai tuoi rancori, dagli amori passati, dalle sofferenze, dalle nevrosi, da tutto quello che porti dentro di te in maniera anche così confusa, così ingombrante, devi traslocare tutto fuori. E allora sì che potrai collocare e vivere autenticamente il quadro, il percorso esoterico.